Sì, non c'è mai nemmeno Sì di pranzo e voglio dire a giro che figo ci voleva l'introduzione palcistica non so se è una cosa buona è il fatto che siamo riposati per due anni e poi abbiamo dato il massimo in una volta cioè non lo so questo comunque è per dire che dovete dare spazio ai giovani un pro grandissimo buon ciao aiuto avrei cominciato il video buon ciao dal vostro amico Renato della rete dalla voce di Fra con tantissime 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 novità sempre di più come sempre partiamo dei gadget franco e poi la carrellata di fumetti chi ha gli abbonamenti vi ricordo che è già tutto sottinteso chi vuole abbonarsi o ordinare i fumetti iscrivetevi sui social facebook o instagram link in descrizione iscrivetevi perciò così siete sempre aggiornati ogni martedì esce lo spoiler di così vi faccio vedere più o meno tutto quello che che arriverà almeno sempre come novità o fumettistica e in più quando vogliamo fare la diretta perché domani arriva la nuova di prima fateci sapere ve lo dico adesso all'inizio se volete il giovedì o il venerdì scrivetevi nei commenti poi casomai farò pure una storia su instagram con un piccolo sondaggio oltre al sondaggio quello sul fantacalcio e in più si sono aperte anche le sale da gioco gioco libero e tornei questa settimana uscirà la nuova espansione di magic le avventure nel forget le alz fordotte perché perché il coltello perché c'è accise vero ok partiamo 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 oggi troviamo harry potter sicuramente poppy tra cui cedric digori proprio no no nell'altro è partito da mai 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 poi un bellissimo il spider o glovin the dark interiore si deve illuminare se non si illumina la luce ultravioletta capo che figo caputo questo però è quello è mirato sì l'ultima versione di caputo che personaggio figo ho chiuso all'inizio ma poi prendo molti punti a a van gog tu a 16 anni giravo collezioni d'arte tu a 16 anni collezioni carte io ho corretto di carte capito che c'era contro gli ovvero no 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 alla sola sola max bagni di spesso germo però sempre se il primo servito di che è morti col mandorino o mandorino e poi e dici si è bene sarebbe fighissimo il proprio di spene anche poi chi non conosce di vita è passato bellissimo si 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 è un gatto un gatto no che ne so ma è tutti i gatti pure edvige se proprio vuoi volendo ci può arrivare un gatto che figo su grutto special dici la con l'aggeggino per fare esplodere la bello con il sora bello la spada nel dubbio la sora ci ritorna anche mitsuki senza la v frieza e le voce di lei è freddo inizia fa caldissimo allora anche sono sora tusi poi un altro kabuto sora a me sora a te tokoyami fumikage di maio u.s. u.s. agent falcon and the winter soldier bello capitan america non è falcon e capitano america sto scomparendo e poi momo momo yayo root yayo root è troppo armione è troppo armione il pop è quello con l'alberi natale se quanto cadono tra 3 2 1 poi poi bacheca bacheca eh che figo è un gatto questo si beh tecnicamente è tutta cosa ma quello serve per tirarlo finzia eh ci hai tirato la cosa mi hai un attimo scusate ciao giovanni stich mi dice che mi si è visto perché mi specchiava per chi voleva stich è il porto chiave eh lillo famosissimo per io sono lillo la tazza di pikachu pikachu uno exploding kittens però vietati minori due team per chi ha megatti ed esplosioni chi ha megatti è le esplosioni bello Empolion vi pure tirani darvi in realtà però Empolion non me l'aspettavo sì le taglie sì ma sono le taglie o sono le nuove taglie le nuove taglie sì smismox angi da 3,30 e a 0 non a 0 da 3,20 brook è bellissimo perché brook non è la taglia brook è il cosa della del suo e poi molto vivo come si fa vivo in che senso scusami e poi concludiamo con il monopoli di my hero plus ultra figo il gioco di contrattazione più famoso del mondo con le sepedine da collezione il guanto di lui il coniglio di lui la maschera di Deku i cazzo non l'iconosco ok e questa è la parte ermiglione diciamo con la barbovic andiamo un attimo in pausa sì e eccoci ah eh sì penso che stessi andando un po' di buon Giorgio sì sì è un attimo a me ok o vale prima volta non battiamo dei manga partiamo dei romanzi bello è un romanzo dell'alta repubblica nell'oscurità di Claudia Gray è un'epoca in cui i Jedi sono la luce della repubblica un padawan scoprirà che anche il chiarore più intenso può gettare l'ombra più oscura buuuu 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 che cavolo sei? bellissimo buuuu 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 buba じ scontato ha scontato 40 bello l'andena verde speciale è un pk lanterna lette e poi grande uomo diamo manca però che coparetti il nuovo coperetto comics e lo world tratto dal film di animazione due volumi a 12 ore 90 da lì leggi tu ok cioè le norme e poi invece questa è la j pop metamorfo si accusa quello di che sono malato che è bello quando si fa un video si parla ti dice di fa e poi si accorge di aver fatto niente che il video non è partito purtroppo ci sono date le pause per dei clienti che ci mancherebbe il nostro lavoro però c'è stato un mancato click però vabbè non fa niente andiamo avanti ne abbiamo già spostato tutto vi facciamo spoiler comunque come sempre vogliamo intrattenervi con il video adesso vi porto tutte le novità qua un'altra inquadratura qua ci sono pure la porta chiavi e andiamo a vedere che cosa è uscito sol leveling 3 bellissimo di cosa stavo parlando di sol leveling ah del fatto che è una cozzolata coreana cioè almeno le copertine si vede che sono proprio ma che poi ti ho detto il problema fu all'inizio è solo quello credo c'è troppo vuoto il primo sembra troppo figo fa troppo vuoto e poi sono arrivati anche gli penetrati dell'uno e del due si nella versione recuperare si è tutto normale si è regolato ormai perciò si lo metto a dire verso di gente si tanto poi ti ritrovi tu abbiamo il luogo di spex family il numero 5 il fratello che non sappiamo il nome però un personaggio molto particolare dei servizi segreti non lo sa ancora nessuno però si si è contro il oh twilight ok poi per la felicità di fra flanderer flanderer 13 lui è proprio l'habis canone speciale si 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 o il teletrasport no ma lui proprio il personaggio no non lo ricordo tipo ma io i nomi 0 no pelè era quando quando aveva il nome originale ora è il camgeto sempre della planet manca troviamo anche il numero 14 che per tutto questo che vi stiamo facendo vedere è quello che voi lo vedete dopo il video quello che noi facciamo è portare tutti i fumetti qua per poi metterli ognuno nella propria casella esatto perché gli abbonamenti non c'è bisogno che scrivono mi metti da parte quello state già quelli abbonati ce li avete già quelli se volete altro è un altro discorso che è quindicinale ricordiamo poi earth paradise numero 11 cattivissimo e questo avevamo detto che è un fumetto che prima o poi recupereremo perché molto interessante io ero arrivato tipo quarto quinto volume era figo però troppa roba poi ci sono arrivato un bel po di albi del dio dei manga o blackjack l'uno e due uno in più la fenice figo non potevo non ordinarlo la fenice chiedimi se sono poi il fichissimo maden no vabbè no vabbè a vuoto maden di leostro lani firma con una croce la tua e numero numero 6 5 barra 6 5 di 6 perciò il segnalismo arriva settimana prossima e dovrebbe essere quello con la n e si matane poi troviamo il nuovo di jojo lion il numero 24 e nuovo di shirayuki numero 4 e anche shirayuki dei capelli rotti sera off of the end il numero 9 quello di shirayuki ma cos'è una novità? sì ah ah eh no stavo a dire mi sembra strano quindi io sono spider su water summer time rendering e olimpia kyklos o kyklos non so come si legge in greco la y ma poi una domanda non avete toccato 25 no mi dispiace niente? no ma proprio ne avevo solo 20 se no io ce ne ho 19 ne posso dare eh niente ma perchè i cereali? ma perchè i cereali? ma perchè i cereali? ma perchè i cereali? invece i cereali? eh che domanda stavo cercando pure una risposta ma lei infatti è del mestiere ma lei infatti è del mestiere la grande richiesta ha preso i cofanetti di 17 anni? sapete tu? si va di 17 anni no 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 era abbastanza l'aveva detto l'aveva detto che dicesse? scotta è volentissimo tu 17 anni no comunque è abbastanza macabro come trama quindi non è proprio da scherzo Danilo Danilo si la trama è figa però di questo ha molto dato lo segnalibro il volume della jpop 49 euro e 50 euro però sono 5 volume io l'avevo detto e lo ridico ma secondo me è tamorfese del bambino che diventa la nonna cioè ho la nonna diventa è la mia vita hello world la nonna quella invece della star comics invece è un coperetto della star sono due volumi a 12 euro e 90 io mi dissocio mentre qua 4 volumi 12 euro e 90 27 e 60 no 12 euro e 90 era quello di prima c'è pure l'altro c'è il romanzo della repubblica di San Corso dell'alta repubblica dell'alta repubblica altissima Claudia Gray poi si comunque adesso il fatto di essere ripetuto ci stiamo guardando un attimo le battute se erano un po' più belle prima perchè così poi c'è il pianista sull'oceano no com'era? no qual'è il pianista sull'oceano? cioè il pianista il film era il pianista in fondo all'oceano più o meno una cosa del genere comunque si comunque è bellissima le metal fighe pure la medusa poi c'è quella cover band i sepultura e poi dovrebbe dovrebbe esserci dovrebbe se non si sono persi la regular eccoci qua Ename poi justice league justice league le avete detto metal wolverine sword lei manca l'arte però purtroppo alcune arrivano al momento Godzilla è un gatto quasi Fortnite ci sta diventando se continui a crederci ci diventerà un gatto ma secondo voi questo è un gatto ma come novità abbiamo per concludere questa almeno la parte news si si poi vi faccio io una carrellata delle bellissimi volumetti da 9.90 uno su Capitan America e l'altro su rocket rocket raccoon molto molto figo una bella lettura estiva anche per i più piccoli per chi si vuole avvicinare al mondo dei fumetti verso l'impossibile e oltre da quando è uscito questo? non c'era prima verso l'impossibile e oltre mi ha spiazzato un uomo l'omnibus di Devilman Devilman grande uomo diavolo salve è per la prima volta dico la guy che abbiamo chiamato la pagina bellissimo comunque non lo so solitamente questo o il cofanetto questo è figo come formato il cofanetto forse è più che comodo bellissimo però capolavoro e poi abbiamo anche la preview dei diari della speziale è un fumetto che ho nella prossima settimana con un taccuino speziato un taccuino delle spezie e poi vengo io a fare un giro e poi possiamo vedere un sacco di arretrati da slime 15 te l'ho procurato manga vibe con Mahmood aposimite 7 mia ozilla vedete che c'è poi per amico vittori invece troviamo tutto dragon ball full color quelli che voleva anche per giuseppe ho gli arretrati di demo slayer di iq ho di shaman king 7 deadly sins altri dragon ball maero accademia di pk e l'antenna verde speciale ottantesimo anniversario poi l'uno di tavola fucazzo altri arretrati di rocky joe e poi troviamo un po' di fumetti interessanti anche con le spagli anche con le spagli che non si vedono internazioni questo è sempre girl from the other side l'unica che colui persona 5 l'intelagino maero e maero vi faccio vedere i numeri ok li rompiamo e niente raga abbiamo fatto un video un po' attellativo un po' diverso pure questa abbiamo visto si 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 questo è un interessante in heritage of a roma questo è il diario della spezia ok grazie mille per la visione raga supportateci e fateci sapere l'impressione non so ne abbiamo detto però è uscito anche l'anteprima fateci sapere quando seguiteci su instagram vi faccio un sondaggio instagram ci vediamo nel prossimo video ciao